Sì, però, anzitutto devo ringraziare il Presidente di Sacerotti perché ha voluto prendere un piccolo scopo di mio sulla mancanza di memoria della nostra città e ha voluto contraddirmi direttamente dicendo facciamo questo spazio dentro il nostro bellissimo contenitore che mi permetto di dire un contenitore che ha una valenza storica ed è proprio la storia, quella della storia della provincia che noi volevamo in un certo qual modo tramandare e ricordare, una storia che in questi ultimi anni, lasciatemelo dire, è stata un po' tralasciata forse c'erano problemi primari, io lo capisco, però è stato così, non c'è stato un ricordo storico è vero che la storia di Latina è breve, ma è vero anche che è molto intensa come ci insegnano anche i libri gennati e solo quelli, perché non c'è altro che ricordi, almeno non mi sembra è bellissima questa cosa di voler decidere di ricordare un personaggio che non c'è più nella provincia ma una volta l'anno un personaggio diverso, sono contento che abbia voluto cominciare con mio padre mio padre, voi forse, voi lo ricordate, è stato primario chirurgo qui dal 1908 a 1985 provvedendo da Forno, dove stava a 54, tra i primari chirurgo, e dalla prima chirurgica di Romano era dietro di Raffaele Colucci e era dietro di Raffaele Colucci lui è venuto, è venuto perché sapeva che era una città in crescita è venuto perché c'era un ospedale da edificare è venuto portando tutta la sua famiglia, anzi accrescendola con un ulteriore figlio facendo crescere i figli qua e partecipando alla vita cruciale e politica della provincia che considerava la sua provincia, dove è rimasto fino alla morte scusate, una rivoluzione ambientata e questo era quello che volevo dire ringrazio tutti, mi dicono che oggi siamo all'inizio di una nuova primavera e penso che questa primavera ci porti un po' più di memoria della storia perché penso che sia fondamentale a recuperare voi lo sapete come era Latina allora, negli anni 50 e 60 Latina allora era Latina c'era un'economia forte, una dittatura forte c'erano personaggi di spicco come Vittorio Cergone, come Angelo Tomassini, come Giorgio Zettieri come Riccardo Cerotti e ci voglio mettere un pochino anche come Giuseppe Bocchetti che prima di essere professionistiche o politici erano intellettuali e che si spendevano per la crescita alcuni di tutto altri del loro settore ringrazio di nuovo grazie 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 per questo ricordo e per questa testimonianza bene io mi avvio le conclusioni grazie